Buongiorno a tutti ragazzi oggi è una giornata particolare perché hanno dato blizzard e ci siamo coperti tutti quanti sperando che non sia una blizzard bella potente comunque programma di oggi andiamo a un giardino che è tipo il più bello del mondo giapponese il più bello di sempre andiamo a vedere un castello e poi teoricamente dovremmo andare se facciamo il tempo sempre tempo permettendo alla zona dei ninja dove troveremo tanti ninja che ci attaccheranno alle spalle tipo questo qua dietro vi dico già che faremo uno speciale a 500 iscritti con uno speciale unboxing di una cosa che ho comprato l'altro giorno quindi iscrizione al canale pollice su e tanti commenti ragazzi buon video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti